bene ragazzi oggi siamo i laghi di castello a castel san giovanni e pescheremo a spoon con il valken sheila noi vediamo l'ora di mettere questa esca bellissima in acqua e oggi pescheremo con il valken sheila spettacolo eccoli qua gli spoon che useremo in questa giornata di pesca andiamolo vedere più da vicino eccolo qui il valken sheila è stato studiato per rimanere molto stabile nei recuperi e in questo modo è possibile sondare i diversi strati d'acqua regolando la velocità di recupero a diverse grammature quello che abbiamo noi in questa immagine è quello da 1,8 grammi e ne sono anche di più leggeri nel valken sheila si è slamata no si è ancora attaccata ho messo uno spoon più scuro vediamo se si slama qua questa sa che è una spigola come tira una trota una bella trota con il valken sheila con il valken sheila colore scuro puntini rosa con il valken sheila è arrivata questa bella trota eccola che si è andata eccola un'altra trota del valken sheila vediamo se si è slamata vediamo che comunque colori scuri stanno rendendo bene questo pomeriggio eccola un'altra con il valken sheila questa volta è una spigola non si slama un'altra con il valken sheila oltre alle trote catturiamo anche le spigole guardate ha mangiato su questo colore è un'altra e oggi il lager di castello oltre alle trote anche un spigola con il valken sheila uno striped bus uno striped bus un'altra con il valken sheila è un'altra con il valken